Furto di energia da 100.000 euro denunciati i titolari di un hotel nel Vibonese. Furto aggravato di energia elettrica per un ammontare di oltre 100.000 euro. Con questa accusa i carabinieri della stazione di Spilinga nel Vibonese hanno deferito alla procura di Vibo Valenzi i titolari di una struttura turistica sita lungo Viale Giuseppe Berto a Capovaticano, nel comune di Ricadi. Nel corso di alcuni controlli i carabinieri hanno scoperto che i titolari dell'hotel e del ristorante avevano creato un sofisticato sistema per alterare i consumi di energia elettrica, manipolando gli impianti e causando così un furto all'Enel per circa 100.000 euro. Nell'ambito degli stessi controlli i militari dell'arma hanno poi scoperto quattro allacci abusivi alla rete elettrica, due in abitazioni private di Ricadi e altri due in esercizi commerciali della zona. Anche in questo caso è scattata la denuncia per furto aggravato di energia elettrica.